Allora riprendendo l'esempio della lezione di prima, dove praticamente abbiamo visto che ci sono due PC con una configurazione con IP statico, uno switch ed ovviamente un web server dove avevamo dei riferimenti, quindi riuscivamo tramite un computer fisso praticamente a raggiungere tramite web browser direttamente il nostro web server utilizzando il protocollo http 2.0.0.192.168.1.20, quindi il suo indirizzo IP, arriviamo direttamente a riprendere il servizio. Però per tutti gli esempi che abbiamo fatto finora, fondamentalmente che cosa abbiamo utilizzato? Abbiamo utilizzato sempre dei cavi, questi qui sono dei cavi di rete semplici di categoria 5 o 6, la questione è se volessimo invece utilizzare delle altre tipologie di endpoint, quindi quali, ad esempio un dispositivo wireless come per esempio un laptop, guardate, lo possiamo ricercare direttamente qui sotto, posso posizionarlo direttamente qui, oppure uno smartphone, guardate, eccolo qui. Diciamo che le icone sembrano un po' obsolete, però effettivamente le interfacce di rete sono quelle che ci interessano un po' di più. Allora, l'idea fondamentalmente è che queste due tipologie di dispositivo, fondamentalmente hanno una tecnologia che non viene utilizzata e non è integrata nello switch, ok? Dovremmo convertirlo in un router con access point o altro, però vediamo di fare le cose con calma e step by step. Allora, immaginiamo di voler collegare questi elementi all'interno di questa rete LAN, utilizziamo uno strumento che si chiama access point, guardate, lui utilizza praticamente un AP. Ok? Guardate cosa fa, fondamentalmente un access point a che cosa serve, la sua simulazione praticamente è come se fosse un piccolo dispositivo della Cisco con doppia antennina, che ha una certa tipologia di configurazione con un access point in maniera diretta, se ci fate caso praticamente si è già connesso il mio smartphone. Allora, l'idea fondamentalmente, in questo caso ci sarà una rete aperta, vediamo tra poco come configurarla. Allora, la cosa che ci interessa un po' di più ovviamente è fare una connessione. Utilizzando una connessione copper stride, tra virgolette, del nostro access point, possiamo collegarlo direttamente allo switch in modalità utilizzando la fast ethernet. Tra poco gli verrà assegnato, cioè andrà in green il setup, quindi fondamentalmente funzionerà. L'idea a questo punto qual è? È quella di comprendere un po' più nello specifico come funziona in questo caso l'access point. Clicco sull'access point e qui innanzitutto vedo tra le settings soltanto praticamente il display name. Se ci fate caso io qui ho la port 0 e port 1, fondamentalmente la port 0 equivale alla porta di rete, quindi al canale di rete che sto utilizzando. Attenzione, quindi questo di connessione con lo switch. Nella parte di port 1 praticamente io vedo le mie configurazioni Wi-Fi, ok? E infatti guardate che cosa succede, questo qui è un SSID, sarebbe il nome della mia rete. Posso per esempio creare la rete Archety Network, ok? Utilizzo tra virgolette una WPA2PSK con la password che è 123456789 e 0. Attenzione, in questo caso voglio utilizzare tra virgolette una TKIP per esempio come forma di password e questo qui sarà la mia passphrase. Diciamo che è un po' tanto semplice, ok? A livello di cyber security questo è molto esposto, però fondamentalmente la cosa che ci interessa un pochettino di più è proprio provare ad effettuare queste tipologie di connessione. Bene, allora l'idea è qui posso definire quello che è il canale di comunicazione e poi ovviamente un coverage range che equivale per esempio ad un numero massimo di metri. Per quale motivo? Perché io posso simulare anche la distanza, ok? Rispetto al mio access point. Se ci avete fatto caso praticamente il mio access point in questo caso si porta dietro delle informazioni importanti, ok? Ovvero ha cambiato la password del wifi e ha disconnesso ovviamente lo smartphone che vi si è collegato in maniera del tutto naturale. Clicco sullo smartphone e guardate cosa posso fare. Qui c'è un config, interface, guardate la wireless 0. Praticamente io qui posso specificare qual è l'SSID a cui mi devo connettere. Guardate l'SSID è uguale a quello che ho configurato poco fa sull'access point, quindi sarà Archety Network e ovviamente la mia passphrase in WPA2, ok? PSK, guardate lo vado a mettere in modalità 1234567890, fondamentalmente sono praticamente pronto per effettuare questa operazione. Tolgo questo elemento qui e tra poco dovrebbe connettersi. Attenzione però ad una cosa. Lui, guardate che cosa c'ha in wireless 0, praticamente ha messo WPA, PSK con ovviamente quella che è la mia tipologia, scusami ho zoomato un pochettino troppo, con la tipologia di connessione con password AS. Io quella che ho selezionato era TKIP, ok? Quindi mi raccomando attenzione alle tipologie di encryption che utilizzate, altrimenti non possiamo effettuare la connessione. Come vedete praticamente lo smartphone in questo momento è connesso. Una cosa importante però, come vi ho detto inizialmente, ok? Questo switch fondamentalmente non ha capacità computazionale, ovvero non abilita, non funziona a livello applicativo e non riesce ad utilizzare, non ha a disposizione il DHCP, ovvero l'assegnazione dell'IP automatico. Che cosa significa? Che praticamente questo smartphone lo vado a configurare in maniera, quindi parlo sempre su wireless 0, con l'IP configuration statica, con un IP address che sarà compatibile con gli elementi che io ho a disposizione. Quindi 192.168.1. guardate gli metto un 103, lascio la subnet mask così, guardate gli metto un attimo una nota e a questo punto fondamentalmente il mio smartphone è raggiungibile. Quindi guardate cosa succede, se sono connesso, vado sul mio desktop, io avrò il web browser, se tutto quanto va a buon fine, fondamentalmente se digito http 2.168.1.20, che è l'equivalente del web server che sta qui, vado in Go e ottengo esattamente la pagina web come tutti quanti gli altri dispositivi. Stessa identica cosa se gli metto l'helloword.html, vedete? E c'è l'helloword. E abbiamo capito come connettere uno smartphone, adesso dobbiamo capire come connettere il nostro laptop, ok? E questa è la cosa più importante perché lavoreremo, tra virgolette, molto spesso con i laptop stessi. Allora, andiamo su laptop, guardate che cosa c'è, questi sono tutti quanti i nostri dispositivi connessi al laptop, se ci fate caso abbiamo una visuale di quelle che sono poi tutte le porte che abbiamo a disposizione e così via. Se vado su config, ovviamente qui vedo tante interfaces, però su queste interfacce non c'è l'interfaccia wifi. Di default, Cisco Packet Tracer praticamente mette soltanto due tipologie di interfaccia, che sono quella della FastEthernet e la Bluetooth. Allora, vado su physical e qui devo incominciare a capire come funziona questa tipologia di struttura. Allora, ovviamente faccio un attimo uno zoom in che mi fa vedere dove sono tutte quante le mie porte che ho a disposizione. Guardate, tecnicamente che cosa voglio fare? Voglio sostituire, ok, la mia interfaccia di rete di tipo cablato con un'interfaccia wifi. Ok? E come faccio? Allora, innanzitutto devo spegnere il computer. Attenzione, questo qui è il pulsantino di spegnimento. Se ci clicco sopra, tra poco vedremo questo led qui sotto che si spegne. Ho spento la mia interfaccia, ok? Quindi ho spento il mio endpoint. Prendo, guardate, questa qui è la mia interfaccia di rete, la tolgo, la trascino praticamente qui. Vedete? È come se questo è il numero N di moduli che io posso customizzare e che posso utilizzare per personalizzare il mio portatile. Ok? Se ci fate caso, qui tra il modulo c'è un WPC 300N che mi dice il Linksys WPC 300N provide a 2,4 GHz wireless interfaces suitable to connection to wireless networks. Quindi è quello che ci serve. Come faccio? Lo prendo, lo trascino praticamente qui dentro. Ok? Io ho appena impostato l'interfaccia wifi. Una volta che praticamente ho finito, ok? Guardate, se vado sul desktop non posso fare niente perché è spento il mio dispositivo. Lo devo riaccendere. Eccolo qui. E quindi a questo punto su config, adesso, se ci fate caso, c'è questo wireless 0. Vado ad impostare ovviamente in questo caso l'SSD che sarà Archety Network. Ok? Metto la WPA2, scusatemi, PSK, 1234567890. Metto la tipologia di encryption a TKIP, guardate, tra pochissimo vedremo la connessione ed eccolo qui. Però ovviamente, come vi dicevo prima, non abbiamo il DHCP, quindi vado ad impostare un, scusatemi, sulla parte di interfaccia di rete, quello che è un indirizzo IP statico. Gli metto per esempio un 104, 192.168.1.104. Lui saprà allora a questo punto la subnet mask qual è. Diamogli qualche secondo. E ovviamente che cosa posso fare? Vado su desktop, avvio il web browser. Vediamo se ha percepito, ha recepito l'informazione, la direttiva. http2.slash.slash.192.168.1.20 Vado ad eseguire e praticamente mi ritrovo esattamente la mia pagina web con hello world.html e la mia pagina è raggiungibile quindi anche da questo tipologia di sistema. E quindi ho capito, tra virgolette, come gestire delle interfacce Wi-Fi utilizzando dei semplicissimi punti di accesso che sono gli access point. Ok? Questa è una sorta di modalità bridge, tra virgolette, cioè in un certo senso non c'è assolutamente nessuna tipologia di computazione particolare. Qui sopra infatti è semplicemente un ponte tra quello che è il meccanismo Wi-Fi che è presente nella porta 1 verso, ok, e ovviamente in full duplex, quindi in entrambi i sensi, la porta di rete che noi abbiamo già impostato.